Un cuore biancazzurro che torna a sognare in grande, questa volta grazie ai risultati ottenuti dalla Puglia Trani. A quasi tre mesi dalla conclusione dello scorso campionato, coronato dalla promozione in Serie B, la Puglia Trani sta preparando la stagione 22-23 con rinnovato entusiasmo e voglia di dimostrare che il calcio femminile di alto livello è possibile praticarlo anche al sud. La società ha lavorato perché questo obiettivo venisse raggiunto. L'anno scorso abbiamo stravinto il campionato di Serie C, siamo la squadra tra i tre gironi che ha fatto meglio tra tutti, quindi ne siamo fieri e orgogliosi, però abbiamo già messo da parte l'esultanza e siamo concentrati al lavoro per affrontare al meglio la stagione di Serie B. Una Serie B importante, molto prestigiosa, ma allo stesso tempo anche molto impegnativa, competitiva e soprattutto molto costosa. Il salto di categoria ha richiesto alla società un nuovo staff tecnico all'altezza della nuova sfida. Tra le novità annunciate da Carlo Uva c'è l'ingaggio di mister Alessandro Pistolesi, tecnico toscano classe 61 che vanta ben 35 campionati femminili tra Serie B e Serie A. La squadra, secondo lei, può affrontare il campionato di Serie B? Sì, assolutamente sì, anche se dobbiamo ancora finire di sistemare la rosa, però ritengo già così come siamo adesso di poter affrontare con fiducia un campionato che sarà molto impegnativo. Però ovviamente noi dovremo cercare di galleggiare fuori dalla zona rischiosa per poi magari prenderci anche qualche soddisfazione. I punti di forza sicuramente dovranno essere l'entusiasmo perché è una squadra molto giovane e il coraggio. I punti di debolezza non li raccontiamo perché se no poi facciamo favore a chi ci dovrà affrontare. Anche la rosa ha subito numerosi cambiamenti, senza però rinunciare alle atlete che hanno contribuito in maniera significativa ai successi di questi anni. Al comunale di Trani continueremo a vedere Irene Spallucci, capitano della squadra, Michela Del Vecchio, Sara Ventura, Isabel Sgaramella e Clelia Colvace. Se però il gap tecnico è relativamente facile da colmare, non lo è quello gestionale. La società sarà soggetta a spese sempre più frequenti e onerose. Quante sono le società del sud che partecipano al campionato di Serie B? Noi, la più vicina è Napoli, poi tutte le squadre sono del centro-nord. Quindi questo vi fa capire anche logisticamente i costi che ci saranno per affrontare questo campionato di Serie B. Quindi non solo sarà un problema allestire una rosa che sia il più competitiva possibile e faccia un buon campionato di Serie B. Noi come società viviamo anche dei disagi perché rispetto a tutte le nostre competitor abbiamo dei costi esagerati per quanto riguarda appunto le trasferte. Infine, un appello ai tifosi a pochi giorni dall'apertura della campagna Abbonamenti. Posso dire, cogliendo appunto questa opportunità che mi dai, di fare un appello a tutti i tifosi di Trani perché in molti, anche nel passato, ci chiedevano enormi sacrifici per poter fare il salto di categoria e arrivare in categorie importanti. Noi ce l'abbiamo messa tutte e ci siamo arrivati. Trani è una piazza importante dove il calcio femminile ha una storia. Quindi ci auguriamo, mi auguro, che il pubblico risponda in maniera importante. Dica presente perché la Puglia Trani ha bisogno del loro supporto e è un modo sia per essere il dodicesimo uomo in campo e anche per aiutare e dare un piccolo contributo alla società da andare avanti.